Il rientro a scuola tra le varie casistiche di contagio e le eventuali misure da applicare rappresenta un vero e proprio rebus, in particolar modo per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Con un caso Covid è prevista l'autosorveglianza e l'uso delle mascherine FFP2 in classe. Con due positività scatta la didattica a distanza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di quattro mesi, che sono guariti da più di 120 giorni, e per coloro che non hanno avuto la dose booster. Per gli altri invece l'attività prosegue in classe con i dispositivi di protezione. Con tre casi Covid, didattica telematica per tutti per dieci giorni. Per i dirigenti scolastici la ripartenza però si presenta tra luci e l'ombra delle assenze. Noi come dirigenti siamo abbastanza perplessi. Anche noi riceviamo le regole così tra capo e collo, di sera, di mattina, 25 pagine oggi, 30 ieri, e quindi stiamo proprio facendo fatica a entrare e soprattutto ad essere giusti nella tempistica per informare anche le famiglie. Forse il fatto di rimanere più in casa magari avrebbe potuto aiutare. Di sicuro io l'anno scorso, a marzo, non avevo gli stessi assenti che ho avuto stamattina. E' proprio la logica che c'è stato un grandioso contagio tra i bambini e soprattutto abbiamo diversi insegnanti che sono contatti stretti di positivi. Quindi ti ritrovi a dover tamponare alcune situazioni in emergenza e questo è difficile. A fare discutere anche la petizione lanciata da molti presidi con la richiesta di posicipare il rientro tra i banchi di scuola, applicando la didattica a distanza. Il tutto per permettere ai ragazzi di terminare il ciclo vaccinale. La richiesta di alcuni colleghi ha significato, secondo me, in una logica in cui si dice prevale la tutela della salute, ma sappiamo che la DAD non funziona bene come l'essere in presenza a scuola. Ci ritroveremo con classi che dovranno comunque stare a casa. Quindi forse l'allungare, magari non di 15 giorni, ma di alcuni giorni le vacanze, forse avrebbe permesso un pochettino a tutti di affrontare con maggior tranquillità alcune situazioni. Grazie. Grazie.